Ben ritrovati a tutti, oggi apriamo il nostro video parlando di Leonardo Di Caprio. Lo conoscete tutti, attore estremamente amato, apprezzato dalla critica per le sue doti recitative e anche per le sue battaglie sociali. Eppure c'è un'area della sua vita che è estremamente criticata, ovvero l'area sentimentale e sessuale. Sì, perché Leonardo Di Caprio negli ultimi anni ha avuto partner molto giovani. Addirittura è nato il meme che appena una ragazza di Di Caprio raggiunge 25 anni lui la lascia. E l'età delle sue compagne è diminuita fino ai 19 anni della modella Eden Polanyi, che è, secondo i giornali di gossip, l'ultima sua frequentazione. Ma perché questa preferenza degli uomini molto maturi, diciamo cinquantenni, per ragazze molto più piccole di loro, diciamo ventenni, è così mal vista? Ma soprattutto, è giusto che la società disincentivi questo tipo di relazione attraverso un giudizio sociale negativo? In questo video cercheremo di dare una risposta a queste domande, ma prima, mi raccomando, datemi una mano iscrivendovi al canale. Ci tengo molto, quindi fatemi questo piacere, per favore. E se vi interessa ascoltare il mio podcast, iscrivetevi a Patreon, perché troverete immediatamente ore e ore di contenuti. Quindi vi lascio il link in descrizione se vi interessa. Grazie mille davvero a chi già mi sostiene. Inoltre vi ricordo che molte delle cose che diremo in questo video sono presenti anche nel mio libro Il fenomeno degli incel e la teoria repeal, che molti di voi hanno letto e che hanno apprezzato. Dunque, è normale che un uomo di cinquant'anni abbia relazioni sessuali e sentimentali con una donna di venti? Per rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente scindere la questione su due piani. Uno, morale e sociale, e l'altro, biologico-evoluzionistico. Ovviamente la morale è qualcosa di soggettivo, a livello scientifico non esiste una morale oggettivamente giusta e una oggettivamente sbagliata. Ma il discorso cambia totalmente se parliamo da un punto di vista filosofico, etico e sociale. Da questo punto di vista alcuni comportamenti e atteggiamenti dell'essere umano possono essere considerati intrinsecamente immorali, quindi non etici, e dunque da disincentivare. Ma quali di questi istinti sono effettivamente antisociali e quindi danneggiano davvero gli altri? E quali invece sono giudicati negativamente per altri motivi, come per esempio per motivi religiosi? E dunque il loro autocontrollo e la loro conseguente soppressione sarebbe semplicemente il frutto di credenze popolari che porrebbero il senso di colpa su comportamenti che in realtà non avrebbero alcun tipo di colpa nell'essere messi in atto. In questo senso, un uomo di 50 anni che ha relazioni sessuali con una donna di 20 può essere considerato un comportamento immorale, socialmente da disincentivare appunto? Secondo molti sì, e il principale motivo è che un uomo di 50 anni dovrebbe, si presuppone, abbia una maturità, un interesse di vita, una prospettiva di vita diversa e non collimante con quella di una donna di 20 anni. Questo presunto gap di maturità porta le persone a interpretare l'interesse manifestato da un uomo di 50 anni nei confronti di una ragazza di 20 come un interesse meramente fisico, quindi di natura puramente sessuale, e non invece come un interesse di tipo mentale, quindi anche considerato come più moralmente accettabile perché è inserito in una interpretazione romantica della relazione. E da qui anche le speculazioni che quest'uomo più grande possa sfruttare la propria età e anche le proprie competenze magari di maturità intellettiva per manipolare la donna più giovane. Queste appunto sono speculazioni sociali, quindi ipotesi che vengono formulate sulla base di pochi o nessun elemento, ma tali speculazioni diventano più oggettive qualora tra le due persone oltre a esserci un gap d'età c'è anche un oggettivo gap di potere. Per esempio un attore famoso come DiCaprio potrebbe essere accusato di sfruttare la propria fama per attirare ragazze più giovani di lui. Forse DiCaprio in realtà è giudicato come meno sospetto da questo punto di vista perché nonostante l'età diciamo matura è anche un uomo considerato molto attraente a livello fisico, mentre il discorso cambierebbe qualora DiCaprio fosse un uomo diciamo considerato brutto. A quel punto l'idea che le ragazze vadano con lui solo per la fama e il potere aumenterebbe. Le speculazioni sull'abuso di potere invece diventano molto più fondate dal mio punto di vista quando parliamo di ruoli direttamente subordinati tra di loro. Come per esempio un'attrice che frequenta un regista che magari la sceglie nei propri film oppure come una dipendente che frequenta il datore di lavoro o ancora come un professore che frequenta un'alunna. E proprio su quest'ultima casistica è stato interessante osservare come le persone abbiano reagito quando a intrattenere rapporti con un alunno non è stato un professore uomo ma è stata una professoressa donna. In quel caso in molti hanno parlato di vero amore e hanno interpretato la relazione come una relazione autentica e non finalizzata semplicemente magari all'aspetto fisico. E questa interpretazione è sicuramente frutto di un pregiudizio sociale che vede l'uomo interessato principalmente all'aspetto fisico delle donne più giovani e magari una donna più matura invece interessata anche all'aspetto sentimentale ed emotivo. E nel caso della preside di 50 anni che ha avuto una relazione con l'alunno di 18 in molti si sono concentrati sulla differenza di età. Ma quello che molte persone secondo me hanno sottovalutato in quella casistica è che il problema di quella relazione non era tanto nell'età ma quanto appunto nella diversa forza dal punto di vista dei ruoli che le due persone avevano all'interno dello spazio in cui si sono conosciuti. Questo non significa ovviamente che ci sia stato un abuso di potere ma pone maggiori dubbi sul fatto che il consenso dato dal ragazzo sia stato spontaneo, disinteressato e quindi valido. Il punto è che non possiamo entrare nella mente delle persone quindi non possiamo sapere effettivamente come sia andata, qual era l'emozione, il trasporto, l'interpretazione del ragazzo. Ma proprio perché non lo si può sapere è necessario darsi delle regole deontologiche. Uno psicologo non può sedurre una paziente durante la terapia e intrattenere relazioni con lei. Allo stesso modo secondo me un insegnante non dovrebbe poter avere delle relazioni con degli alunni poiché questi sono direttamente subordinati a lui o a lei. Ma fatta questa breve digressione lasciamo un attimo in disparte il piano etico e morale e proviamo a occuparci del piano biologico evoluzionistico. Chiedendoci appunto se è così strano che un uomo di 50 anni dal punto di vista istintivo abbia interesse sessuale per una donna di 20 e viceversa. La risposta è assolutamente no, non è così strano. Anzi, secondo gli studi il picco di attrattività sessuale delle donne verrebbe raggiunto tra i 20 e 25 anni, mentre quello degli uomini intorno ai 50. Dunque, oltre a non essere strano, pare sia addirittura da un punto di vista, ripeto, meramente istintivo, la normalità. Certo, non tutto quello che è istintivo nell'essere umano è anche automaticamente etico e quindi dovrebbe essere incentivato. Però non possiamo dire che questo tipo di attrenza sia innaturale, sia una perversione e che quindi debba essere colpevolizzata per il solo istinto presente nell'essere. Tra l'altro, una nota a margine, il fatto che il picco di attrenza sessuale di un uomo arrivi così tardi nell'età, dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo a tutti quei ragazzi giovani che magari si trovano tra i 20 e i 30 anni e che fanno fatica a sbloccarsi dal punto di vista sessuale. Quello che voglio dirvi è che il tempo è dalla vostra parte, quindi non serve farsi prendere dal panico e pensare che se non si è riusciti ad avere rapporti in età giovane, allora non si avrà mai la possibilità di sbloccarsi sessualmente. Però è importante non lasciare che il problema si cronicizzi, quindi se vi rendete conto di avere una situazione che rischia di stabilizzarsi, chiedete aiuto perché prima iniziate a lavorarci seriamente e prima c'è la possibilità di sbloccare la situazione. In ogni caso, da un punto di vista biologico ed evoluzionistico, il perché un uomo maturo ricerchi relazioni con donne anche più giovani è abbastanza intuitivo. La donna più giovane è anche mediamente più fertile, quindi l'uomo potrebbe trovarla istintivamente come più attraente. Ma perché invece una donna di 20 anni dovrebbe trovare istintivamente più attraente un uomo di 50 anni che di certo non è più fertile di un uomo di 20? E anche qui la teoria evoluzionistica tiene in considerazione i diversi obiettivi procreativi di uomini e donne. I maschi, da una parte, avrebbero come obiettivo principale quello di massimizzare la trasmissione dei propri geni, quindi da questo punto di vista il loro istinto sarebbe maggiormente poligamo e quindi orientato a fecondare quante più donne possibili. Dall'altra parte, la donna avrebbe lo stesso obiettivo di trasmissione genetica, ma allo stesso tempo ricercherebbe dei partner che possano garantirle stabilità e protezione della prole sul medio e lungo periodo. Anche per questo le donne sembrerebbero essere mediamente più interessate alla monogamia sessuale rispetto agli uomini. E a questo punto dobbiamo chiederci perché un uomo più anziano viene percepito istintivamente come più in grado di garantire una maggiore protezione alla prole? In questo caso entra in gioco il fattore status socio-economico. Le persone più anziane hanno avuto più tempo per accumulare risorse e guadagnare potere sociale e, da questo punto di vista, sono anche quelle che mediamente detengono il maggiore status. Il fatto che le donne siano attrate dallo status sociale degli uomini è confermato da numerosi studi. Attenzione, qua non parliamo di donne che ricercano uomini ricchi e potenti solo per mettere le mani sul loro patrimonio o per sfruttare questo loro potere. Quelle donne esistono, ovviamente, ma sono una minoranza. Qui parliamo di vera e sincera attrazione sessuale, che però non scaturisce solamente da caratteristiche fisiche, ma che scaturisce anche da caratteristiche psicologiche e comportamentali che sono influenzate, nella loro percezione, anche dallo status socio-economico. In parole povere cosa significa? Significa che se un uomo è ricco e magari anche un lavoro importante, prestigioso, il suo carattere viene percepito come più carismatico, come più sicuro di sé, come più ambizioso, come più forte e di conseguenza anche come più attraente. Quindi l'influenza dello status socio-economico sull'attrattività sessuale è qualcosa che viene mediato dalla percezione del carattere. Di questa idea è anche lo psicologo evoluzionista David Bass, che in una sua ricerca condotta su 10.000 persone di 37 culture diverse, ha individuato che a prescindere dalla nazione le donne sembrano essere più interessate alle risorse del partner rispetto a quanto non lo siano gli uomini nei confronti delle donne. Allo stesso modo, in tutte le nazioni, gli uomini hanno mostrato un maggiore interesse sessuale per le donne più giovani di loro, in particolare per quelle under 25, mentre le donne sono risultate maggiormente più attratte dagli uomini più grandi di loro. Qui si potrebbe giustamente obiettare che questa differente importanza che viene attribuita da uomini e donne allo status socio-economico dei partner sia frutto di un retaggio patriarcale. In passato le donne erano pragmaticamente obbligate a tenere in considerazione le risorse economiche del partner, poiché questo era l'unico modo per loro di avanzare a livello sociale, poiché non gli era permesso né lavorare e magari neanche avere un conto corriente. Eppure, secondo le ricerche sopracitate, le donne sembrano essere interessate allo status socio-economico degli uomini a prescindere dal loro di status. Anche qui si potrebbe facilmente obiettare che si tratta di una dinamica patriarcale interiorizzata, cosa significa? Che anche nel momento in cui una donna è libera economicamente e può selezionare sulla base di criteri non socio-economici, comunque mantiene quell'influenza socio-culturale educativa che la porta a dare molta importanza a questi fattori. Tuttavia questa ipotesi, per quanto logica e verosimile, è stata smentita da alcuni studi che hanno identificato un maggior interesse delle donne per lo status socio-economico degli uomini anche in società non industriali e pre-patriarcali, addirittura risalenti fino al pleistocene. Questo studio rafforza l'ipotesi dunque secondo cui il maggior interesse manifestato dalle donne per gli uomini di status sociale maggiore è dato anche da fattori biologici e non solo da fattori culturali. A questo punto vale sempre la pena ricordare che si tratta di dati macro-statistici, che quindi non vanno ad annullare la singola esperienza personale. Ci sono donne infatti che potrebbero trovare molto poco attraente lo status socio-economico di un uomo e donne che invece lo potrebbero trovare estremamente attraente. Un altro aspetto che vale la pena sottolineare è che i criteri secondo cui un uomo viene giudicato più forte socialmente, quindi di status sociale più elevato, possono anche variare a seconda dell'età e del contesto. Per esempio in passato il potere di un uomo all'interno di una società era dato anche dalla sua forza fisica, cosa che oggi invece è molto meno rilevante, anche se come abbiamo visto in un video precedente questa continua ad avere un'influenza inconscia. È ovvio che oggi ciò che più di ogni altra cosa conferisce potere all'interno di una società è il patrimonio economico. E forse anche per questo gli uomini sembrano più interessati ai soldi rispetto alle donne, perché nel caso degli uomini c'è una motivazione extra per riuscire a perseguire questa ricchezza e la motivazione è data appunto dagli istinti procreativi. Anche questo ovviamente è un'ipotesi, ma ve la comunico perché è stata formulata anche qui da diversi ricercatori. Ma allora, un'altra domanda che potremmo porci a questo punto. Perché, se questo fattore di status socio-economico sembra essere così rilevante, molte ragazze continuano a trovare più attraente un ragazzo di 20 anni rispetto a un uomo di 50? Un'ipotesi in questo senso è che il peso attribuito dalle donne ai fattori socio-economici dei partner aumenta con l'aumentare dell'età. Quindi con l'avvicinarsi a un'età in cui magari gli interessa trovare una stabilità di coppia, anche magari finalizzata alla prole, aumenta. E in questo senso si capisce anche perché magari un uomo che a 30 anni vive ancora con i genitori e non ha un lavoro viene percepito come mediamente meno attraente rispetto a un uomo che magari vive da solo e ha una carriera avviata. Dunque è probabile che fino a una certa età le donne continuino ad attribuire un forte peso nei propri criteri di selezione sessuale ad aspetti legati al fisico e alla forza caratteriale, che sono anche quelli che determinano un maggiore status degli uomini all'interno dei gruppi di coetanei come per esempio a scuola. Alcuni studi dimostrano infatti come gli uomini che operano bullismo hanno mediamente più partner sessuali rispetto agli uomini che invece il bullismo lo subiscono. Ed essendo il bullismo una dinamica di esercizio del potere da parte dei più forti sui più deboli, è ovvio che questo tipo di dinamica può creare una gerarchia all'interno del gruppo di riferimento. Dunque nelle dinamiche di selezione sessuale gli uomini più giovani competono principalmente con la loro prestanza fisica, mentre gli uomini più anziani competono principalmente con le proprie risorse socio-economiche e con la propria maturità intellettiva. Questo significa che prestanza fisica, forza caratteriale, sicurezza in sé e di conseguenza anche status socio-economico, status lavorativo eccetera, sono fattori che si mischiano tra loro e che contribuiscono insieme a generare più o meno attrazione sessuale. E significa anche che ci saranno sicuramente donne che attribuiranno una maggiore importanza, un maggiore peso ad alcuni di questi criteri e donne che magari ne attribuiranno un maggiore peso ad altri. Io per oggi vi saluto vi ringrazio, se avete delle domande che volete farmi nello specifico su questi temi o su altri vi aspetto su Patreon perché li posso dedicare più tempo attraverso i podcast. Io vi ringrazio ancora per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie ancora! Grazie! 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 Grazie!